Quelle sono le pecore che sono sette alla carrupa, per quello è una capanna che c'è. No, torno io fa porto, non ci sono problemi. Avete la psicità c'è? No. Con le pannelle naturalmente. Avete solo i pannelli, una vita e l'elettricità, l'acqua e l'opuzzo. L'acqua e l'opuzzo, questa è l'acqua dulce, questa è la cucina. Ah, questa è la cucina. La cucina che cociniamo, mettiamo le penne. Questa è la cucina. Quanti anni avete che siete qua? Qua? Quarant'anni. Questa è la cucina. Questa è la cucina. Questa è la cucina. Questa è la cucina. Ora mangiare, i cazzi sono tutti cercati giù, 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 giù. Tutto quello dopo faccio la linea, la carne, tutto quello dopo lo faccio. Quando andiamo qui, andiamo, andiamo dopo. C'è un tronco messo dopo qui. E tutti i croccati dopo? Tutti in capo le cani sono croccati. Ho visto, sì, sì, c'è il canto. E questo anche c'è il vento, non c'è tutto, perché c'è l'anafeta. Noi chiamiamo peggio, l'anafeta. Sì. Grazie. 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 a chi ha iniziato in tempi antesignani. Grazie alle associazioni di volontari in Sicilia, quindi Ferrovie Caos, Treno Doc, che è rappresentata anche l'associazione della Ferrovia Valle Alcantara, Sicilia in treno. Non sarebbe possibile. Credo arrivare nella Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità, in modo più bello di quello che abbiamo fatto oggi.